Musica Nuovo appuntamento al mercoledì alle 20 e 30 con il mondo delle erbe e delle piante amiche della salute perché ogni erba che guarda in su ha la sua virtù. Impareremo a osservare, riconoscere, raccogliere erbe spontanee e piante, capiremo quali sono le loro proprietà e scopriremo come utilizzarle per il nostro benessere e la nostra salute. Mercoledì 17 maggio, protagonista il Tarassaco. Vi aspettiamo!